Eccolo qua, limpiando, allegria eh, ora ma la ostia oggi vi voglio sorprendere, vamo a fare una scuanta tipo di massa, un pochino semplice, una complicata e per questo oggi vendrà un amico mio, un amico intimo che già ve lo presentaré questa chidipoglia, è media ora che lo sto sperando, ancora non viene, spero che venga, se no le corto lo uo e ora vengono, ok? Allegria! Bueno, è arrivato l'amico intimo, eh, oggi vamo a fare una massa spettacolante eh, necessita molto tempo però, ma una massa che quando com'è questa pizza oh, si chiama carmelo, no carmela, ciao carmelo, carmelo, ne pensavo, ne pensavo, anche se tiene pelo largo eh, però, si chiama carmelo, vamo a fare una pizza con biga, cos'è la biga? non ve lo spiego perchè, non glielo spieghiamo, no, perchè me lo sai e mi corre, vosotros facciamo, lo che noi, noi diciamo, e ya sta, non mi fate incazzare, non mi fate incazzare, ok? bene, incominciamo, allora, incominciamo, eh, incominciamo, incomincia, incomincia, ah, la bascula, andiamo, incendiamo la bascula, medio chilo, eh, la descrizione, medio chilo, questa, non pensiamo male, medio chilo di questa, non è l'arina normale come io, carmelo, Assicatelo tu perché io... altrimenti parlo troppo. E una multisereale. Lleva 4 cereales. Arroz. Non lo fa 5. Se vuoi mettere uno più... 4. Sì, la harina. Harina? Ma...viamo in serio, figlio. Io non pensavo la postura. Guarda che nel video... Eh, YouTube va in serio. La gente... Lo fa quello che noi facciamo. Se tu fai gilipolle... e loro hanno gilipolle, va! 4 cereali 4 cereali riso arroz tu italiano e io spagnolo segale sendeno maiz maiz quando vedi una harina di cereali comprarla è questa bio empeziamo con medio kg di multicereali medio kg e la mettiamo qui dentro che c***o è questa? che serve? guardate la cavità l'olio facciamo una idratazione facciamo questo tranquillo che ve lo spiegheremo 3 grammi di levadura mira, levadura levadura in polvo 3 grammi eh? uno due tre 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 grammi tre grammi di levadura comprate levadura questa che è buona non preoccupate questo ricordate per casa non pensare la pizzeria per casa levadura seca in polvo acqua mira ma perché non ti corti questo pelo di m***a perché non ti calla la p***a 220 grammi di acqua facciamo una idratazione del 44% 220 grammi di acqua 220 grammi di acqua 220 grammi di acqua che si che vive l'acqua abriendo un grifo già sapete oggi non ho raggiungo chi non ho raggiungo lui un… lavarvi la mano eh guarda, si fa il dia anteriore ok, poi ve lo spiego meglio, hai che farlo il dia antes, si chiama impasto massa con bigas, biga, no, biga, la differenza di un ammassato diretto è che questo è un pre ammassato, noi lo faremo, è un pre l'avanzo, un pre ammassato si, chiede lo spiego, se no lo spiega la tua puoi sablare, ah si? avete dato talmente po' il culo che al final ci avrei scomprato una camera nuova avete dato che la camera è un gilipoglio, non era la camera un gilipoglio era la camera che tenia che non valia niente buono, anche la camera è un po' gilipoglio qui stiamo ammassando, allora la differenza è in biga e ammassato diretto, l'ammassato diretto, come ho detto la parola, è diretto è diretto, questo è diretto con harina, poi le madura, sale, l'aceto, l'aceto e l'amassato amassato tutto con i passi e lo facciamo fermentato a 7-8 ore, bolliamo a 4-5 ore anche possiamo amassarlo, poi lavorare la pizza la biga non, la biga è un pre ammassato che noi faremo con l'acqua, harina e l'amassato lo faremo fermentato durante 15-16 ore, maggi quando otteneremo acabaremo con l'ammassato finale Ok, 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 avete lo capito, ho vinto una traduzione eh? oggi non avevo gutta, me ha costato 100€ questo c***o solo? abbiamo rimato 100€? 100 euro e l'ho comito? No Non è tutto io, 100 euro Tanto Pum Pum, già sta Già sta fatta 150 euro 150? 150 euro Vale Calma, guarda Guarda la camera, guarda Guarda questa mierda che ho fatto Mierda non è mierda Ci sono 300 euro Non ti smieto Guarda, questa sta secca Questa ora la diciamo La tappa Peffe, dammi la tappa Questa ora la serramo Che non entra aria Che non si è secca E la teniamo che descansare 17 ore 17 ore 17 ore Con 2 cojone Questa è la pizza buona Questa è la pizza buona Con 2 cojone Pizza buona Non ti basta Questa è la tua Ma non è la mia Questa è la mia Questa è la mia Questa è la mia Ok Svegliamo Dentro di 17 ore Chuck si gira Alegria E mala hostia Ciao Ciao Affanculo Alegria Eh? Bueno Abbiamo fatto la massa Questa che è Vi ho spiegato La biga Ora facciamo una massa diretta Buona Che vuoi questa massa diretta? Questa è la massa In 3 ore In 3 ore In 3 ore E poi potremmo ordinarla Ok? Massa diretta In 3 ore In 3 ore In 3 ore Com'è? 3 Iniziamo Per la sesta massa Necessiamo 1 kg di harina Doppio zero Doppio zero No! Doppio zero Harina Lo voglio parlare un pochino Perché il chaval Sabe anche Sabe più che io Vale? Doble zero Doppio zero Agua Un 58% di hidratazione di agua 580 C L di acqua E poi Aceite di oliva 3% del amassato 30 C L Ok Sal 3% del amassato 3% del amassato Levadura 3% del amassato 3 grano Stiamo molto bene Molto bene Brava Ingredienti nella descrizione Non? E guardate il video bene Come si tratta Meno pregunta E ma si tratta E non me fate incazzare Trabatta un poco Empeziamo con la levadura Per attivare la harina Osea la fermentazione Asi adelantiamo il processo Luego Il amico Pino Io Me c'è l'acqua No? Si signor Poco a poco Poco a poco Poco a poco E noi lo amiamo amassato Poco a poco Poco a poco Eh l'acqua Vai vai Eh? Vai Pino vai Vado Piano 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 Falta pochito Pochito a poco Pochito a poco Poco a poco Ora si vuole E ci ha un po' di sal Derritimo la sal Si vuole Ora E facciamo la sal Eh? Ma non è in mia mano E c'ha la sal Non è in mia mano Sul camoncito Che poi al horno E se può comere Mira Pone questa pata del cordero Del cerdo Pone un po' di sal Un po' di sal Un po' di sal E poi poi Pone il horno E poi La rustica Se come Ok? Non ho fatto niente Oggi È il mio giorno di festa Fiesta 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 Vai 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 No No, no, qua Ah, ostia Mi dice Tira l'acqua Io la tiro A chi? A chi si tira l'acqua? Vai Questo non è pizzero Eh Mira, camera Mira Questo non è pizzero del dia No Questo Non me lo vedi così Che pareti un gilipoglio No No Sì Questo tiene tre cojone Stio, tre Ma le sale massa anche io Mirai i denti Io E te la po' crosta Donde sta la telefa Mi caglola puta Non mi caglola puta Questa merda Dette Aaaaaah Non la puta Non è te E quest'altra Ostia Mira Mi ha detto che lo scopo Mira Do te le No uno Ecco la puta Muove la mierda Cioè uno sta lavorando e muove Venga va Hai visto o no? Ti ho detto che oggi non è facile eh Oggi La prima volta abbiamo fatto una massa rapida Eh? Simple Ora cominciamo a parlare in serio O no Carmelo? Sì signor L'abbiamo a parlare in serio Perché vedo Che si mette molto con Diego per Youtube Claro Pino non sape Pino non sape Pino si che sape Passa che Non vuole andare alla guerra No Lo so che la gente Vuole essere la semplicità Ora Complicare la vita Mi avete fatto un cazzo Ma avete fatto un cazzo Ma non ti cazzo Ma non ti cazzo Ma non ti cazzo Ma non ti cazzo Vale Amassiamo 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 Che bello fare un cazzo Tutto il di Tutto il di Tutto il di Però Io lo sai Camara Però a me mi hanno detto Vente che te lo passas bene Però Io lo sai Io lo sai Io lo sai Non è sudato Non è sudato Non è sudato Mirate bene Chicos Chicos Mirate bene Amore 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 che sono super simpatica azeite adesso guarda azeite mirale mirale che classe azeite d'oliva mira come va a fare clac 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 se tenete una a destra ve eliminare tutta la faena Se hai una macchinetta di questa, usarla, con questo apparato qui, non cazzo, si tira via la macchina, si nota che la uso poco, cavolo a puttami, spacco tutto, mira, questa per ammassare, se hai un cacciarrito con una macchinetta di questa, faccio come, se lo tenes, utilizzarlo, però noi come siamo scavronti, lo facciamo a mano, a mano, no, vale, dalle una ostia di vez in quando, mira, vieni, eh no, tiratevi, che è, un cazzone, a puttati, no, vai cazzo, tira, 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 così sta, così si lavora, così si lavora, così, vado, 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 dom différent, 3 ore, et di caso dopo tira ora, 3 ore, ok? beh, alcamo a descansare in un Arnoldo, ok? goanne non avere calor ne freddo, twitter! 3 ore! 3 ore! olha che diccio, mata ci scegliere, perché perché? perché sei un c***o! ricordatevi che questa in tre ore è l'altra che abbiamo fatto prima, la biga 17 ore 10 più 7 questa in tre ore è una pizza però già vedrete la differenza tra l'una e l'altra ok? ciao Belli lo vediamo dopo bene signori abbiamo passato 3 ore già abbiamo la massa la massa abbiamo detto rapida quelle rapide 3 ore abbiamo passato come potete vedere ha triplicato il tamao è come lo abbiamo detto ha triplicato il tamao guarda che massa bella ora ma la ostia basta ora cariño e amore cariño e amore vabbiamo preparare le boli vabbiamo preparare le boli per che poi le faremo redondate vabbiamo preparare le boli perché non si è terminato è ammasato per 6 persone per 6 pizza redonda eh pizza redonda eh pizza redonda ostia 270 grammi cada uno 270 grammi questa è per fare una pizza redonda mi ha anche tenere che non ma la ostia basta vale dovremmo che serrarla con carino mire mi ha faltato mirala eh vale mira che muovi ok io l'ago questo qui vado vale così, rapido e voi potete fare una forma come viene meglio non apretarla inventarvi una forma fate una forma rotonda così come volete fate una forma così abbiamo già le abbiamo detto se non lo sape male se non lo sape male se non lo sape male è che abbiamo detto non maltratarlo ho fatto una cosa guardate, queste sono 6 pizzas 6 redondas per farlo in casa la massa è rapida ora taparla una volta una volta e la mettiamola qui tre ore ora ora la mettiamo un paio di ore qui abbiamo 28 gradi 29 un paio di ore due ore ora la mettiamo due ore eccoci siamo arrivati ciao siamo passati 17 ore 17 ore dall'ammassamento della biga della prima della prima ora è arrivato guardate guardate non vi assustate sentite che profumo sentite? questa è una pizza per casa ma buona 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 che l'altra era buona però era molto rapida questa va molto in serio non mi fate infatti però non mi fate accortare che necessita tempo pazienza malattia amore necessita tutto per essere una buona pizza quindi abbiamo fatto di tutto il totale della biga prenderemo il 50% 350 350 gr la metà ok ora con gli ingredienti per cercare abbiamo 430 gr che sta scritto nella coda 650 gr di harina che è la riporto harina 00 00 vale questa la mojamo prima la mojamo mira camera vieni qua mirarla ora hai che lavorarla mirarla vieni vieni hai che lavorarla se tiene che non tenere miedo mirai la vieni caffè va vieni bravo sei bravo sei bravo sei bravo sei bravo vieni 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 mi criticano a me 38 anni facendo pizza mi vanno a criticare che non vieni 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 mi vieni vieni ammazzand mirai che spettacolo che pizza vieni 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 mi vieni che pizza dì amore un poco di sale Pinuccio mettiamo il sale va vai Pinuccio vamo in serio eh stiamo assendo la pizza buona in casa eh in genere la potremmo sassertare via l'ora dell'ora mirai mirai non c'è sento acqua che la butto piano piano no, acqua per la bevere questa la devi trattare bene no no bene porca no stia miseria mi fai un cazzo non mi fai un cazzo a me metti l'acqua qui ma porca metti sta cazzo di acqua porca porca miseria porca mira che colore mira che colore Carmelo mira che colore è la prima vez che lo vio a lavorare davvero va vamo in serio va se lo ha tomano serio poi me lo ha tomano in serio vai Pinuccio vamo vai Pinuccio vai Pinuccio mira che massa che stiamo facendo bravo Pinuccio la vedi che sta muocata la vedi che sta muocata perchè vieni qua spiegaglielo tu si perché sta muocata abbiamo 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 fatto una massa con alta hidratazione che vuole abbiamo fatto più più acqua non di quello normale ma necessita più acqua qui ci sono quasi un 65% di acqua di acqua di acqua adesso mettiamo la sete 20 grammi quello che mi dice vale 20 grammi di sete che continua io 10 minuti ammazzando eh 10 minuti che io ammazzando eh saltami il vino no ah uno schiaffetto schiaffetto eh mirai che massa va continua questo uevo è letta è continuo sto cansato io va la teniamo Pino la teniamo? si posso provarlo? che vuoi provare? avrei il tatto sicuro? ciao Pino mi hai detto che sta ok mirai che massa che mi ha detto adesso ora che? che facciamo? ora la dejamo la dejamo fermentare la dejamo fermentare eh 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 camera eh ora tiene che fermentare ancora eh non si ha acabato eh la facciamo fermentare ancora una ora 20 minuti questa 20 minuti si perché 20 minuti come tu vuoi una ora mettiamoli un buon olio mettiamolo un pochino la sedia qui e la tappiamo e la tappiamo una ora ok una ora la tappa capitano la tappiamo la tappiamo temperatura ambiente 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 una ora ancora eh non è facile avete detto perché vuoi complicare la vita io ve la complico ha passato una ora dell'amassamento della biga accordate biga il nome è biga ok e mi dai la massa eh ciao oi sei arrivato che cazzo sei andato eh un'amica che vabbè un'amica hanno passato una ora eh una ora ha duplicato ha duplicato e triplicato ora quello triplicato triplicato ora quella ora è che trattarla bene ora abbiamo che fare una volta una volta 260 grammi ecco 266 non passa nulla ok guardate venite qui io fino a te la pesando tu pesa guardate 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 Scusa, parla tu perchè io non parla tu No, parla tu, sono tu full lovers Parla a lui, uno, due, tre, quattro, cinque, sei e ho ganato io No, morla Un, due, tre, quattro Cinque, diciamo, parla tu Sempre io gano, va Allora, siamo arrivati qui con il maestro Pino Prestanizzi e già abbiamo il risultato dei due ammassati che abbiamo fatto per i suoi seguitori Qui abbiamo un amassato diretto e qui abbiamo una viga Vale, chiaramente, per i tempi, abbiamo il risultato finale perché non potremmo stare tanto tempo abbiamo dovuto combattare le ore minimi di questo con le ore di un giorno e poco della viga Quindi, per che oggi abbiamo, in la mia ora, i due amassati Quindi, Pino, per che vedo la differenza Per favore, alza Ok Amassato diretto 5 ore, più o meno Biga Alta idratazione E quasi 24 ore L'abbiamo qui Ora faremo due pizzas Una io e una io E con tre pizzas No, due, due Siamo due Il tre, la gente pensa che si canta Il tre si canta del tre Abbiamo due pizza Abbiamo un amassato diretto E con una viga Io qua la dire Io resta Io resta Ok? Camerano Vieni Sempre per casa Un'altra Guardate Questa è L'olor L'olor E' Un'altra 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 E' differenti, ora mettiamo il tomate come sempre, un buon tomate, il tomate non è né fritto né è il tomate crudo, come la natura, crudo, perché noi se questo è nell'orno non non mettiamo il queso dai, orneamolo asì, in Italia si arriva mi metto, dove c***o me lo so il confato? Orneamo! in italia è un crimen tenere il tomate fritto però non vogliamo chitarlo, non è ritornato però... cada uno... perchè è in bandeja? perchè è in bandeja? la differenza della pizzeria la pizzeria va nella pietra diretta, vale? in casa non abbiamo pietra la camera, vieni, vieni camera, camera, camera che cazzo va? però io dico pizza postre guarda questa cazzo di camera guarda biga mira come si sta lievitando dov'è lo zoom? zoom chiudi, chiudi, chiudi questa è la merda che ho io mira mirai la differenza eh? questo cazzo di camera io ponderia al chieso io tambien allora la sacchiamo? saccamela la pizza no la pizza no la pizza vai minuccio questa è la mia me la sacco io cada una si sacca a tutti e questa me la sacca a tutti caro dio che lo uso eh? non mi dico non mi dico allora a metà cozione mettiamo il chieso qui mettiamo il chieso scusate dei chiesi per favore grazie mamma mia che paura e da qui a delante mettiamo quello che vuoi eh? camon salame piccante ancioas mettiamo no vieni qua mettiamo la differenza perché sotto non mi dico la differenza no? la mirai la differenza io si tu la mi dico la differenza io si è profondo mamma mia oh vuoi eh? avete entendito? ponendo lo che vuoi mira ponendo un pochino io pure se mi dico un po' di olio vale? perchè? perché lo dico io se lo dice vino ciao ciao che chi va con il coccone la fredda a cocheare eh? bella c'è la mia eh voilà camon quando vedi che è a metà cozione lo sai che hai è ponere il chieso e dal chieso ponere camon chorizo buttifarra in Venezia che è camon però come no ... come no se lo stumbled come on come on come on ك come on dai è duro eh è dura la vista è dura la vista mamma mia è lendo tutto com'è? ma tu? questo è mio caldo questo cazzo del panino buono, la mia è già toma la mia anche guarda che spettacolo scusa ma porca puttana attento Pino signori e signori guarda che spettacolo guarda pizza ma che spettacolo mamma mia grazie a ver vuotatemi dove sta la differenza? ora non notiamo la differenza la differenza sta nel sapore nel gusto avete entendito? a parte che siamo due sbueno senti qua senti senti sotto che fa entrambi senti come sfrecchia mamma mia senti come sfrecchia guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua mantechiglia pura mantechiglia pura mantechiglia pura ehi camera scotta camera mira mira che spettacolo eh mira mira che 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 massa che muove regalo una della mia tu una della mia mira 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 la mostaretta eh buonissima oh mamma mia spettacolo spettacolo un bacio buono abbiamo acabato il video e spero che avete apprendito algo seguimi in twitter e instagram e in cazzecana1n1 e vaffacula allegria no e por la calle no e por la calle no no ok ciao ragazzi ciao grazie ciao a piuccio ciao 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 ciao